Nessun utilizzo di candeggina per uccidere le due sorelline Maria Sofia e Gaia, 9 e 7 anni. Dai primi accertamenti dell'esame autoptico si evidenzia morte per asfizzia meccanica violenta. L'infanticida Giuseppe Savatta deve rispondere di duplice omicidio aggravato ai danni dei propri discendenti e quanto detto oggi nel corso di una conferenza stampa dal procuratore capo della Repubblica del Tribunale di Gela, Fernando Asaro, presenti il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Gerardo Petitto, ed il comandante del reparto territoriale di Gela, il maggiore Antonio De Rosa. La mamma avrebbe ucciso le sue figlie con le sue stesse mani e poi avrebbe tentato di suicidarsi, escluso che le bimbe siano state uccise ingerendo candeggina. I primissimi accertamenti ancora in corso su quello che è l'esame autoptico che è stato effettuato e la cui relazione l'avremo soltanto fra un paio di mesi allo Stato, in questa primissima fase, smentiscono la presenza di candeggina all'interno del corpo delle due piccole. La candeggina era lontano dalle bambine, nella vasca e nell'ambiente del bagno dove si trovava la signora. Il procuratore fornisce la versione dei fatti in merito ad una probabile separazione dei due conigi che avrebbe potuto indurre la donna a compiere il duplice omicidio. Stiamo ricostruendo quelle che sono le modalità, le motivazioni, la causale che può aver determinato nella mente di una mamma una vicenda di questo genere. Per quelle che sono le nostre conoscenze in questa primissima fase delle indagini, non abbiamo elementi concreti e specifici in questa primissima fase delle indagini per poter dire che tale gesto poteva essere prevedibile. Il logipo del Tribunale di G. Lari Dioconti questa mattina ha convalidato l'arresto della donna. La mamma si trova sottoposta in stato di arresto, in flagranza di reato, che è stato proprio convalidato e disposto alla custodia cautelare in carcere fino a quando le condizioni di salute non sono idonee per sottoporla a custodia cautelare in carcere in una struttura di stretta vigilanza. Giuseppe Savatta, subito dopo l'infanticidio, ha tentato di suicidarsi ed è stato il marito a salvarla. Si è intervenuto quando la signora era nella vasca da bagno tentando il suicidio.